In quali direzioni si muove il Welfare a livello nazionale? Il Welfare a livello nazionale, che oggi è oggetto di confronto in questo convegno, soprattutto con riferimento ai temi degli anziani e della non autosufficienza, vive, come in molti altri paesi, alcune criticità che sono legate soprattutto al finanziamento pubblico dei servizi destinati alla long-term care. In particolare, a differenza di molti altri paesi europei, nel nostro sistema italiano circa metà della spesa long-term care per non autosufficienti è ancora legata a indennità di accompagnamento. È una dinamica complessiva in evoluzione, le preoccupazioni più grandi sono legate soprattutto al futuro, in virtù del notevole incremento della popolazione anziana, dell'aumento delle condizioni di crinocità e delle condizioni di non autosufficienza. Proprio per questo, come è possibile ridurre le disuvalenze sociali? Una domanda molto difficile, da questo punto di vista sicuramente anche a parità di risorse il nostro paese e le singole regioni devono lavorare sicuramente per ridurre la frammentazione tra servizi che c'è all'interno dei territori e pensare ad una diversa programmazione delle risposte anche in un'ottica di integrazione delle risorse che oggi sono disponibili e che non sempre sono su canali di finanziamento tra loro comunicanti. Qual è l'importanza ad esempio delle RSA o di nuove figure come quella del counsellor all'interno appunto del welfare? Le RSA sono delle strutture fondamentali per la rete del welfare, con particolare riferimento al segmento degli anziani non autosufficienti, a cui dobbiamo ricordare il 70% circa della spesa pubblica in materia di long-term care è comunque legata al segmento degli anziani. Non sono gli unici ad avere condizioni di non autosufficienza, ma sono sicuramente la realtà prevalente. Le RSA rappresentano la risposta residenziale più strutturata e importante che c'è all'interno di ogni regione italiana. Anche le RSA si sono molto evolute da questo punto di vista e sono orientate ad accogliere utenti sempre più compromessi, per cui bisogna analizzare il sistema dei servizi pensando anche a quelle fasce di età antecedenti all'ingresso in RSA con servizi diversi che potrebbero ritardare questo ingresso anche con politiche di tipo preventivo. Come interviene l'ASL in questo compito di riduzione delle disuguaglianze sociali? Questa è una bella domanda. Intanto l'ASL ha nel suo DNA quello di attuare tutto quanto necessario, tutte le strategie necessarie per garantire equità di accesso alla popolazione, in particolare alla popolazione più fragile e quindi alle frange più bisognose della popolazione. I bisogni non sono soltanto bisogni di tipo economico, ma sono bisogni collegati anche alla componente anagrafica, quindi gli anziani, al peso relativo alle malattie, alle patologie e ai disagi che incombono sulle persone e sui disagi familiari. Quindi innanzitutto un primo compito dell'azienda sanitaria è quello di rilevare i bisogni, conoscere i bisogni e avere gli strumenti con cui riesce a intercettare questi bisogni. Grazie. Grazie.